Non c'è niente da scassinare qui. Non c'è più niente qui. Non c'è più niente da prendere qui. Non ci sono altre serature. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente da scassinare 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 qui. Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è più niente da scassinare 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 qui. da trovare. Non ci sono altre serrature. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente qui. Ah, siete ancora qui? Friedman mi ha infettato. Devo trovare l'antidoto. Un antidoto? C'è un antidoto! Voi ne siete sicuri? Secondo Miss Wixon è in un laboratorio dietro una grande porta. Ma come pensate di trovare il laboratorio? Grazie a questa mappa del sotterraneo. Una mappa? Ma è... Poi andrete... Ehi! La mappa! Oh no! Mi ha fregato la mappa, quel figlio di puttana! Ha chiuso la porta dall'esterno. Deve essere contaminato anche lui. La mappa! 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 Mappa! È inutile! Non c'è più niente qui. Non ci sono altre serature Mi resta solo una statuetta da trovare Non c'è più niente qui Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere Non ci sono più serature Non c'è più niente qui Da qualche parte c'è una serata di forzare Prendi Ecco che arriva Sono sicuro che ci sia ancora qualcosa da prendere Da qualche parte c'è una seratura da forzare Ci sono altre serature C'è ancora qualcosa da fare qui Non c'è niente da scassinare qui Non c'è più niente qui Non ci sono altre serature Peccati questo Non ci sono più serature Non ci sono altre serature Non c'è più niente da trovare qui Non c'è niente da scassinare qui Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere Non c'è niente da scassinare qui Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere Non c'è niente da scassinare qui Non c'è più niente da trovare qui Non c'è niente da scassinare qui Non c'è niente da scassinare qui Non c'è più niente da scassinare Non c'è niente da scassinare qui Non c'è più niente qui Grazie a tutti. Ho l'impressione che ci sia ancora qualcosa da prendere. Non c'è niente da scassinare qui. Non c'è più niente da prendere qui. Non ci sono altre serrature. Non c'è niente da scassinare. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente da scassinare qui. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è più niente da scassinare. Credo di aver visto una specie di codice. Non c'è più niente da scassinare. Non c'è più niente da scassinare. Non c'è più niente da scassinare. Non c'è più niente da trovare qui. Non c'è più niente. Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è niente da scassinare qui.